Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo come creare riflessi naturali in una fotografia di landscape. Ciao ragazzi e ragazze, io sono Martin Benes e torniamo con un nuovo tutorial di Photoshop. In realtà è da un pochino di tempo che non ne facevo uno e quindi approfitto della richiesta di una persona che mi ha scritto su Instagram Martin, ehi, come si fanno i riflessi naturali? Quindi prendiamo come esempio una fotografia landscape di paesaggio e vediamo come creare un riflesso naturale. L'effetto finale che andiamo a ottenere è questo riflesso qui, quindi un riflesso molto pulito, qua soffice, molto molto bello, molto d'impatto a partire da una foto iniziale che non ha praticamente nessun tipo di riflesso. Man mano che faremo questo esercizio vedremo vari gradi di riflesso che potrete personalizzare, ma bando alle ciance iniziamo. Allora, fondamentalmente, fatemi chiudere quest'immagine qua. Andiamo su Windows, su Libraries, e io quest'immagine la prendo direttamente da Adobe Stock, quindi me la sono acquistata all'interno di Adobe Stock, mi è apparsa qui nel pannellino, quindi basta fare doppio clic ed ecco qui la mia immagine ad altissima risoluzione, aperta direttamente sulla mia area di lavoro. Ovviamente voi aprite la vostra immagine e apritela direttamente in Photoshop, così partiamo tutti dallo stesso punto, quindi proprio dall'inizio. Quindi, come vedete, quest'immagine non ha nessun riflesso, quindi qual è il modo più facile per creare un riflesso? Ovviamente quello di flippare, di specchiare l'immagine. Quindi creiamo la copia del livello semplicemente trascinandolo su questo pulsantino qui in basso a destra, si copierà il layer, eccolo qui, quindi vedete ora ho due layer, uno è Background e uno è Background Copy. A questo punto possiamo premere la combinazione di tasti Command sul Mac o Control sul PC, quindi Command T, T come trasformazione. Chi non è pratico dell'uso delle scorciatoie da tastiera può andare tranquillamente su Edit, quindi su Modifica e Transform e trova esattamente la stessa cosa, quindi Transform Flip Vertical, ok? Quindi specchiamo in maniera verticale, boom, in questo modo qua, ok? e spostiamo quest'immagine qui giù, ok? Però ovviamente così non funziona, dobbiamo capire a che altezza posizionare quest'immagine, quindi abbassiamo l'opacità qui in questa zona, quindi abbasso l'opacità del livello Background Copy all'incirca al 40%, ok? Ecco qui che vedete che l'immagine si è trasparentizzata e posizioniamo, posizioniamo questa zona qui, quindi questa montagna esattamente nel punto in cui coincide più o meno in questo modo, così. Ecco qua. Adesso posso semplicemente selezionare questa parte, quindi la parte dalla linea dell'orizzonte in giù, assicurarmi di stare sul mio Background Copy e cliccare sulla maschera, ok? Quindi cliccando sulla maschera appare la maschera di livello che dice di questo livello qui mi devi far vedere solo la parte bianca, ossia la parte in basso, ok? Ed ecco questo è il primo punto in assoluto. Ovviamente qui ce la possiamo giocare su vari gradi di realismo. La prima cosa da sistemare è questo pezzettino qui. Quindi riportiamo l'opacità al 100%. Questa cosa ovviamente non sarà necessario da fare su tutte le immagini perché magari molte delle vostre immagini non avranno bisogno di questo intervento. Io lo sto facendo perché la mia immagine ha bisogno di questo intervento. Quindi semplicemente sto andando a coprire questa parte. alzo un pochino questo elemento in modo che si fonda. Eccolo qua, in questo modo, perfettamente. Quindi questo è il primo grado di riflesso che potete ottenere, ossia un riflesso esattamente uguale, identico a quello che c'è su e creare magari delle immagini assolutamente astrate. Quindi andiamo a riabbassare un pochino l'opacità, ad esempio al 60%. Ecco qui che comincia a essere un po' più naturale. Andiamo al 50%, anche così vedete già il riflesso comincia ad avere senso. E intorno al 40%. Diciamo, ci possiamo quasi stare. Ovviamente più abbassate l'opacità, più si trasparentizza l'immagine fino a sparire del tutto. Ok, quindi decidete in genere voi qual è il grado di riflesso che volete dare alla vostra immagine. Ok, adesso la seconda cosa da fare è quindi creare quel effetto opaco che si trova quando un oggetto è all'interno dell'acqua. Quindi possiamo andare su filtro e qui applicheremo una sorta di sfocatura. Ne possiamo usare di due tipi, anche fondamentalmente in base con quale versione di Photoshop state lavorando. Possiamo andare su Blur, che sarebbe sfocatura, e su Motion Blur, che sarebbe sfocatura di movimento. Questo è per chi ha le versioni di Photoshop base. E applichiamo un 90 gradi, messo per così. E in questo modo, come vedete, possiamo gestire quindi una sfocatura verticale, ok? Quindi un qualcosa che si sfoca in questo modo. Potete anche decidere creativamente di applicare una sfocatura orizzontale in modo da creare questo effetto quasi sognatrice sulla superficie di questo lago, ok? Ma visto che io lavoro con la versione Adobe Photoshop CC 2018, e ovviamente in genere questo è presente in tutte le versioni CC, andiamo su Blur Gallery e abbiamo questo Path Blur, ok? Che io ho usato in vari tutorial per creare gli effetti di movimento. Appare la sua interfaccia e in mezzo appare questa freccetta qui. Quindi io semplicemente gli dico, guarda, questa sfocatura deve andare dall'alto in basso. Se volete essere più precisi, anche mentalmente, magari mettetevi la freccetta qua giù, ma in realtà non cambia praticamente nulla. Qui a destra possiamo gestire speed, quindi la velocità è end point speed, quindi la velocità dei punti finali, ok? Quindi possiamo decidere quanto deve essere evidente questa sfocatura e anche in questo punto, quindi posso decidere, ok, ma questi punti che velocità devono avere, ok? Quindi ad esempio posso decidere che il punto finale sfoca molto di più, ora clicco sul punto iniziale, rispetto al punto iniziale, e così via, ok? Quindi mi posso gestire la sfocatura da qui, quindi Path Blur. Per chi non vuole invece sbattersi con questo Path Blur, può tranquillamente applicare una sfocatura di movimento tradizionale, ok? Quindi andiamo a vedere il prima e il dopo, quindi prima abbiamo una situazione del genere e adesso abbiamo questa situazione di riflesso, così, ok? Quindi questo già potrebbe essere un risultato più che perfetto. Se volete aumentare l'efficacia di quello che fate, aggiungiamo un altro livello di sfocatura, ok? Quindi duplichiamo quest'immagine, quindi semplicemente la prendo e la trascino sul penultimo pulsante in basso a destra, ecco qui che si crea la copia, mi assicuro che queste righette siano intorno al layer e non intorno alla maschera, quindi se no non funziona correttamente, andiamo su Filtro Blur e adesso aggiungiamo un Motion Blur a 0 gradi in questo modo. Perché? Perché questa cosa adesso aggiungerà il blur orizzontale, quindi che ci serve un pochino per creare, appunto come vi ho detto all'inizio, quell'effetto sognatore, no? Quell'effetto un pochino così che ci piace a tutti, insomma, su questo tipo di immagini. Ed ecco qua, abbiamo l'immagine che vi ho promesso all'inizio, ok? Quindi immagine iniziale e immagine finale. È importante ovviamente dire che farò altri tutorial sui riflessi, perché ci sono differenti tipi di riflessi in base alla posizione prospettica differenti dei vari oggetti. Ovviamente questa è una delle situazioni più semplici che poteva capitare perché abbiamo un'immagine frontale, ma nei prossimi esempi, quindi nei prossimi tutorial che caricherò, vi farò vedere ovviamente differenti situazioni. Se vi piace questo tipo di tutorial, lasciatemi un commento qui sotto, fatemi le richieste dei tutorial che volete che faccia, se vi va lasciate un like, condividete con i vostri amici. Vi saluto e al prossimo tutorial.